23 aprile 2017 siamo qui a Val Romano alla fiera agricola una bella fiera agricola hanno organizzato questo giro con i fuoristrada qui vediamo i nostri defender che sono come sempre protagonisti ci sono tante persone tanti spettatori questo giro con i fuoristrada sono qui e si domanda e qui arrivano sono guidati dai miei artisti Rosone Matteo e Ciancarella Antonio e qui è una buona è una buona e qui è una buona ecco qui Antonio Antonio Giancarella passa alla parte più alta e affronta sempre dal lago più difficile eccolo qui il nostro autista Antonio Giancarella un po' qui scende sale senza problemi andiamo all'escursione della macchina messa al limite nell'escursione punta un po' un po' qui un po' qui esce fuori pista mi piace complicarsi un po' la vita vuole ostentare un po' qui 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 arrivano verso di noi una buca un po' piccola per queste macchine un po' qui esce un laterale c'è l'incrocio delle macchine c'è l'incrocio delle macchine salgono e scendono con tranquillità non hanno nessun problema un po' qui un po' qui un po' qui è una bella giornata di sole ci sono diversi spettatori ecco la buca più impegnatina lui passa proprio sul monte piace proprio la pendenza guardiamo la macchina che riesce molto bene lasciamo divertire lasciamo guardare questo porto pubblico